Grazie a tutti. Sono stati gli stessi ragazzi a fare regia, riprese, interviste e organizzazione dell'incontro ospitato nella sala congressi di Tiber. Qui abbiamo una regia a cinque camere gestite proprio dai nostri ragazzi di impronte che stanno un po' imparando appunto le videoriprese. Li possiamo seguire tramite i microfoni. Alla fine si possono dire anche molte cose teoriche, ha senso dirle, ma credo che sia nella pratica che questo mestiere poi si esprime veramente e si capisce veramente come lo si fa, come funziona e soprattutto se è una cosa che può piacere. Un incontro aperto al pubblico e ai fan di Accorsi e Bonifacci che hanno raccontato il loro amore per Bologna e le bellezze di tutta la regione con la campagna Via Emilia. C'è uno specifico che io sento solo qui, quando sono nella mia terra, maggior ragione a Bologna, essendo proprio di qua io percepisco che sotto i piedi ho una terra che è la mia. Una terra anche di cinema che fa crescere registi, sceneggiatori, giornalisti e videomaker del futuro con impronte digitali. L'Ufficio Giovani di Bologna è da vent'anni che produce ogni anno nuovi talenti nel campo della comunicazione, del videomaking, del montaggio e continuiamo a farlo. L'idea è quella di rafforzare questo progetto e rafforzare un settore che tratta i giovani non come persone bisognose ma come persone che prendono parte alla comunicazione della città, al racconto della città in tutte le sue forme. Insieme al sindaco di Bologna Matteo Lepore, sul palco anche la vicepresidente della regione Emilia Romagna, Ellie Schlein. Io vorrei aggiungere alla lista di applausi, possiamo un grande applauso alle lavoratrici e ai lavoratori della cultura che hanno così sofferto in questi due anni e maggiori di pandemia. Dobbiamo essere a loro fianco con l'istituzione. Grazie.